Oggi è un grande piacere avere con me qua insieme tante persone che hanno voluto dedicare il loro tempo a questo momento importantissimo per testimoniare la loro presenza in questa manifestazione dedicata alla pace, per una pace senza confini. Sono veramente emozionato anche perché l'opera che vedete alle mie spalle è veramente unica, 193 bandiere che verranno disegnate dal vivo su una tela lunga 530 metri. Diciamo sempre che il parco è un parco da vivere, deve essere un parco da vivere e iniziative come queste lo dimostrano a pieno. Chiaramente ci vuole l'intraprendenza di una figura come Balestri che non solo da anni cura questo luogo ma da due anni anche attraverso la fondazione Oikos sta cercando di fare cose importanti e sempre di più per proprio quello che è anche un po' la finalità della nostra capitale 2024 cioè tenere insieme natura, cultura e farlo attraverso la sostenibilità a partire anche dalla sostenibilità delle vernici che si utilizzano oggi per fare questa opera d'arte, mandando un messaggio di pace in un movimento come questo con questa bandiera enorme di oltre 500 metri con tutte le bandiere del mondo ad abbracciarsi per offrire una cartolina unica a chi ha la fortuna di passeggiare qua, le prime escursioni qui nel sentiero di chi viene apposta anche da fuori per partecipare all'evento di oggi e soprattutto per poter in un momento come questo tra il blu del mare, il giallo delle ginestre, peraltro molto ben curate è appunto un po' il sogno di un luogo come questo che prende vita veramente costruire qualcosa di importante per tutti